Dal 15 marzo 2018 l'invio delle istanze di ammissione al patrocino a spese dello Stato avviene esclusivamente dall'area web Formasfera. Per verificare se si possiedono i requisiti di ammissione al patrocino a spese dello Stato il cittadino deve contattare uno degli avvocati inseriti negli elenchi dedicati. Non occorre quindi recarsi gli sportelli del patrocino per depositare le istanze in cartaceo il quale prevedeva il deposito in triplice copia di tutta la documentazione. Tutte le informazioni per gli iscritti e anche per il cittadino sono chiaramente riportate sul nostro sito è inoltre attivo uno sportello informativo per il patrocino a spese dello Stato situato presso l'URP del Tribunale e una mail per rispondere a qualsiasi dubbio o problematica. L'avvocato individuato analizzerà la richiesta del cittadino e verificherà l'esistenza dei requisiti di rendito occupandosi del deposito della domanda e dell'ammissione su Formasfera. Una volta trasmessa al portale sarà subito caricata come istanza di patrocino a spese dello Stato e verrà rilasciato un numero progressivo. Da quel momento l'avvocato può seguire l'andamento della richiesta diventando subito disponibile per la commissione per una valutazione. Questa procedura ha permesso una riduzione di accessi allo sportello sia per i cittadini che per gli avvocati. La mediale settimanale degli accessi era tra i 300 e i 350 utenti complessivi. È stato un risparmio notevole sia in carta che in corso di spese di spedizione. Grazie.